Benvenuti a... Indovina il bicchiere Quanto conoscete i bicchieri da birra? Nel quiz di oggi dovrete indovinare il nome del bicchiere sapendo la sua lettera iniziale. Avrete 5 secondi per dare la risposta corretta. Alla fine del video scrivete le risposte esatte che avete dato. Cominciamo tra... Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio Se hai indovinato più di 7 bicchieri si percepisce l'importanza che attribuisce alla buona birra. Non dai nulla per scontato e vuoi gustarti ognuna di esse al meglio. Congratulazioni e per altri quiz e contenuti non dimenticare di iscriverti al canale.